Mi chiamo Mary Elizabeth Williams, sono qua ad insegnare tecnica. Provare i colori diversi aiuterà la tecnica. Gran parte del mio repertorio è il repertorio verdiano. Sangue, volsie, non sangue! La prima cosa che ho detto a loro la prima volta, l'approccio mio sarà molto umile. Loro sono gli esperti delle loro proprie voci, loro hanno un'idea artistica che io voglio rispettare. Io sono là per aiutare che queste ispirazioni vengano sfruttate al massimo. Da qua! Sono qua per essere orecchie esterne. I cantanti hanno bisogno sempre degli orecchie esterne, di fiducia e di amore anche. Vogliamo trovare una strada che è più costante. È un grande piacere, è un onore anche nella mia vita musicale di fare parte del loro. Ho visto! Brava!